Come promesso, torniamo ora a collegarci con Piazza del Quirinale a Roma, dove c'è Matteo Parlato e dove ci sono soprattutto i lavoratori Utelia. Buongiorno, buongiorno, sono qui con Alessandra Carnicella che ha questa specie di fantasma, lavoratori ex Utelia, sospesi in attesa di giudizio. Perché innanzitutto, perché avete scelto Piazza del Quirinale? Perché abbiamo deciso di denunciare questa truffa a tutti i livelli istituzionali, eravamo riusciti ad arrivare al governo. Il governo in questo momento se ne sta lavando le mani perché c'è una proroga di altri 35 giorni sulla sentenza della dichiarazione di insolvenza fatta dai lavoratori. E quindi il governo ha deciso di rimandare tutto al dopo elezioni, assumendosi la responsabilità di questo. E noi abbiamo deciso che denuncieremo questa cosa adesso anche alla carica più alta dello Stato, che è il Presidente della Repubblica, che speriamo riceva almeno una delegazione in modo tale che riusciamo a comunicare anche con lui, a spiegare anche a lui che cosa stiamo vivendo in questo momento. Siamo vittime della truffa, sono sette mesi che siamo senza stipendio, viviamo di collette alimentari, di sottoscrizione di lavoratori e questa cosa è inammissibile per un Paese civile. Per cui siccome noi riteniamo ancora di vivere in un Paese civile, stiamo denunciando questa cosa ai massimi livelli istituzionali e non abbiamo alcuna intenzione di fermarci, andremo avanti fino in fondo. L'abbiamo detto, in questa faccenda che è molto sporca ci sono degli interessi sotto. Se qualcuno ha deciso di salvare e di salvaguardare gli interessi delle società che ci sono in mezzo, deve mettersi in testa che deve salvare il posto di lavoro di 2.000 persone che sono in questo momento in una situazione drammatica. Ci sono 2.000 famiglie sull'astrico, ridotte all'astrico. Quindi noi non ci fermeremo, andremo avanti per la nostra strada perché riteniamo di essere nel giusto e quindi non accetteremo alcun tipo di giustizia che è quella che purtroppo stiamo vivendo da circa tre anni. Ma scusate, ma il sottosegretario Letta si era speso proprio per voi? Allora, il sottosegretario Letta aveva detto appunto che avrebbe convocato un tavolo istituzionale il 23, convinto che forse il 17 ci sarebbe stata questa sentenza. Il 17 il Tribunale ha dovuto accogliere il concordato presentato dall'azienda, che vi posso garantire un concordato ridicolo rispetto alla relazione fatta dai custodi, i quali poi sono stati nominati dal giudice stesso. Quindi il giudice in questo momento si deve prendere 35 giorni per valutare un concordato risorio e a quel punto il Governo dice che fino a che non c'è la sentenza della magistratura non si può far nulla. Noi siamo convinti che un Governo debba in qualche modo incidere su questa avvertenza perché, torniamo a ripetere, c'è una truffa dietro che noi stiamo denunciando e il Governo deve assumersi la responsabilità anche di intervenire prima della magistratura. Noi stiamo chiedendo l'insolvenza per accedere a un commissariamento e quindi far ripartire l'azienda. Le commesse sono sparite tutte, nonostante ci fosse l'appello del Governo. Quindi abbiamo perso il Comune di Roma tre mesi prima della proroga. Era stata prorogata il 31 dicembre, l'abbiamo perso il 30 settembre. Abbiamo perso la RAI, abbiamo perso Camera dei Deputati, abbiamo perso poste. Stiamo cercando di recuperare. In questo momento siamo anche sospesi dal lavoro in attesa di una procedura di cassa integrazione che nessuno riesce ad aprire. È veramente una cosa vergognosa. Come sentite qui da Quirinale c'è parecchio nervosismo, giustamente difendono il loro posto di lavoro, quindi si battono con le unghie e con i denti. Se avete altre domande altrimenti vi restituirei la linea. Matteo, due cose al volo prima di dare la linea per tutti gli aggiornamenti delle principali notizie. C'è qualche speranza che una delegazione venga accolta dal Presidente Napolitano e poi c'è stato qualche rischio di far spostare questa manifestazione? Guarda, sulla seconda domanda ti rispondo subito perché ho visto quando sono a Rialto che chiaramente è stata un po' una sorpresa anche per chi gestisce la sicurezza qui e comunque hanno trovato un pacifico accordo con la polizia qui intorno. Come al solito poi stiamo facendo questa protesta in modo civile, lo abbiamo dimostrato, abbiamo ringraziato ufficialmente anche le forze dell'ordine che sono anche loro dalla nostra parte perché, torno a ripetere, quello che stiamo denunciando è una cosa molto grave. Siamo convinti di essere dalla parte del giusto e quindi quando si è dalla parte del giusto poi difficilmente non si trova l'accordo anche con le forze dell'ordine. Quindi stiamo protestando in maniera civile, lo stiamo dimostrando a tutti i livelli e anche le cose fatte così improvvisate riescono sempre bene, quindi siamo anche contenti di questo. Dallo studio vorremmo sapere un'altra cosa. Se per caso avete avuto contatti con il Quirinale, con l'Ufficio della Presidenza della Repubblica per eventuali incontri. Credo che qualcosa ci sia stato, però io sono arrivata in questo momento, però immagino di sì che qualche contatto ci sia, quindi stiamo aspettando appunto una speriamo probabile convocazione di una delegazione, insomma, che una delegazione possa andare su e conferire, immaginiamo di no, col Presidente della Repubblica, però con qualcuno dello staff sicuramente. Va bene, io comunque sono qui, se loro varcheranno quel portone alle nostre spalle vi informerò subito. Va bene, grazie Matteo. Allora, principali notizie.